Salve, o perlomeno il classico saluto Salve a tutti ragazzi, qui è World of Conscious e benvenuti in questo nuovo video Non recensione, però un video off topic dal canale Qui si parla di video recensioni fatte attraverso voice over Video registrati con la webcam, top 10 eccetera eccetera Però qui si parla un attimino di me, lasciatemi parlare di me per un attimo Soprattutto cosa sto vivendo in questo momento, vi prego Avete notato che da quasi un mese non ho pubblicato video Molti stanno dicendo in questo mese in realtà non sta neanche registrando video Ragazzi in realtà non è vero, non so chi ha pensato una cosa del genere No, sto ancora registrando video, ne ho registrati ben tre Due perché il terzo in realtà è ancora in fase di lavorazione Sia a livello di rec sia a livello di editing Uno è probabilmente un video che uscirà lunedì L'altro video è un video recensione su Da Supreme E il terzo che sarebbe dovuto essere una video recensione tra me e Angelo Appunto noi parlavamo della discografia completa di Fabri Fibra E anche di tutte quante le sue difficoltà Mentre stavo editando uno tra questi video Che vi dico subito, il primo video è la recensione di Bloody Vine e Pnome 3 Che forse, ripeto forse, uscirà lunedì Stavo editando quel video e tra me ne ho pensato Ma è il caso di continuare ancora YouTube o no? E la risposta ovviamente è stata la seguente No, quindi sì, avete indovinato Questo canale rimarrà inattivo dopo questi tre video che verranno pubblicati Quindi dopo la pubblicazione di questo video che uscirà alle 14 e 14 e mezza Dovrò un attimo decidere se 14 e 14 e mezzo Sempre per quanto ricorda l'attività del pubblico Verranno pubblicati questi tre video Che probabilmente in realtà è il terzo Ovvero con Angelo lo sostituirò con un altro video Non so se voi vi ricordate ma uno tra i miei video più recenti E appunto il video dove io parlavo di bottiglie prive di Sfera e Basta Che quel video ha totalizzato 140 visual in meno di 24 ore se non sbaglio Dove appunto parlavo sia di bottiglie prive e la tracklist all'interno dell'album famoso di Sfera E anche delle pubblicità, delle tante pubblicità di questo disco a livello di marketing E per quanto riguarda Sfera che appunto lo definivo un genere del marketing Vabbè di preciso vi metto qua il video sopra nelle schede nel caso voi l'abbiate perso Ma a parte questo ragazzi Dopo questi tre video Basta il canale rimarrà in attivo per un bel po' Ma per un bel po' non dico qualche mese Ma io probabilmente parlo anche di qualche anno Che probabilmente saranno due o tre anni Ve lo dico subito Beh perché sto facendo questa cosa qua Che probabilmente per molti di voi sarà una cazzata bella e buona Che adesso sono quasi a mille iscritti Perché in questo momento sto abbandonando praticamente tutto per qualche anno Vabbè qualche anno Due o tre anni probabilmente Perché ho notato un po' come sta andando la mia vita Vedo che YouTube Magari Internet in generale sta diventando un perno della mia vita Cioè Anzi no, sembra che io non abbia proprio una vita E Internet sta prendendo il sopravvento verso di me È come quella classica cosa della dipendenza Che io sono dipendente da queste cose Io sono sempre andato contro la dipendenza E io sto facendo appunto il dipendente della situazione E è una cosa che sinceramente non voglio che accada Sia per conto di questo Ma sia perché mi sono un po' stufato dopo un po' Non nel senso che mi sono stufato di fare video Ma stufato proprio di quello che sta succedendo all'interno della mia vita Che non vi dico cosa sta succedendo Però una cosa gravissima secondo me Che preferirei non parlare però Che preferirei non parlare al 100% Ma che però voglio tenervi un po' informati Diciamo facendo un quadro generale della situazione E stavo anche per darmi al suicidio Non sto scherzando perché è la verità Quindi l'unica cosa che Quindi secondo me era giusta fare è Caricare questo video Caricare perlomeno altri 3-4 video in più E dopo basta Per molti voi sarà come ho detto prima una cazzata Però ragazzi Cercate di capire come mi sto sentendo in questo momento Quindi ragazzi noi ci vediamo alla prossima Spero che voi abbiate Avuto la possibilità di apprezzare queste mie scelte Ci saranno persone che probabilmente non le accetteranno E altro puntino su lei Ma quindi Questo incontro con Angelo Dopo questa enorme e futura inattività del canale Incontrerete comunque Certo non per Youtube Ma per semplice amicizia Ecco tutto Quindi ragazzi Grazie per aver visto questo video Commentate sotto nei commenti Lasciate like Condividete Iscrivetevi E noi ci vediamo a quelli che saranno i prossimi ultimi 3 video di questo canale Ciao